Il governatore, che sarà grande elettore per la definizione del Presidente della Repubblica, se si vuole un aiuto bisogna rispettare le istituzioni. La campagna si aggiunge alle altre 14 regioni in zona gialla, ma ai fini delle restrizioni cambia ben poco. Se non che si acuisce il conflitto tra Vincenzo De Luca e il governo dopo la decisione di Mario Draghi di impugnare l'ordinanza della regione con la quale si prolungava la chiusura delle scuole dopo le feste. E chissà se quest'altro scontro finirà per condizionare addirittura il voto del grande elettore De Luca nell'eventualità fosse proprio Draghi. Il candidato designato alla Presidenza della Repubblica, l'immagine di un Presidente del Consiglio che difende il proletariato, ha sentenziato dal suo acquario TV social del venerdì, è falsa. Ci siamo trovati di fronte ad una posizione incomprensibile e offensiva del governo con la quale, ha tuonato il Presidente della Giunta, ha impugnato l'ordinanza della regione campagna sulle scuole alle 22.15 di domenica sera. Con gli istituti che riaprivano il lunedì, caro Ministro della Pubblica Istruzione, non vogliamo essere presi in giro? Se si vuole un aiuto bisogna rispettare le istituzioni, non ci si può permettere la cialtronata di impugnare l'ordinanza regionale e non quelle dei 111 sindaci campani che hanno poi deciso di chiudere loro le scuole. Ci vuole rispetto e serietà, la demagogia non serve. Insomma, a De Luca non è andata proprio giù che il governo si sia messo di traverso, ma mai che il vento dell'ala della imbecillità o meglio del dubbio, che scompigliava i radi capelli di Baudelaire, abbia soffiato tra i pensieri del Presidente della Giunta, frenandone, qualche volta, l'irruenza o suggerendogli modalità decisionali al riparo dal reiterato rischio di isolamento istituzionale. Tutta altra considerazione, invece, meritano le sue denunce sul caotico e oscillante atteggiamento assunto dall'esecutivo nell'affrontare le misure di sostegno alla lotta alla pandemia. Grazie. 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 Grazie.